Dopo tutta la crisi che Anima ha avuto a causa della rottura con la Sabri Gamer Sembrerebbe finalmente essersi un minimo ripreso L'ho annunciato prima con una serie di stories E poi con altri video inediti pubblicati sul profilo di Rovazzi e di Kokeshi Visto che Anima sembrerebbe essere stato invitato da Fabio in una serata a casa sua Non è la prima volta che succede quindi sembra che stia iniziando ad uscire di casa e a riprendersi Visto che dalle stories si vede già che è un po' più tranquillo rispetto a prima Quindi siamo molto contenti per lui Qui vi lascio le stories di Anima che non ne pubblica ufficialmente da tipo due settimane Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Comunque tabù non è assolutamente un gioco che crea competizione e problemi Un minuto fuori Ciao Karen Non bagliamo troppo Ma che ho? Bello stare in compagnia nel 2019 Vero? No davvero E' comodo il tuo divano? Lero cosa sta facendo? Non so Ma ti è comodo? Vabbè vuoi dormire dentro? Sì Vero stare in compagnia Vero stare in compagnia Vero stare in compagnia